Continuano anche nel mese di maggio i concerti di musica da camera del liceo Alfonso Gatto. Agli eventi del 3, del 6 e dell'11 maggio parteciperanno sia i gruppi da camera formati dagli studenti del liceo musicale, sia i gruppi junior verticali formati insieme agli studenti delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado Gino Rossivairo di Agropoli, Castellabate San Marco, Capaccio Pestume e Albanella. Si conclude quindi per quest'anno scolastico il progetto ministeriale dell'ufficio scolastico della regione Campania, orchestra a scuola, scuola in orchestra, che prevede la formazione di gruppi musicali fra studenti di ordine di scuole diverse. Il progetto, portato avanti con tante difficoltà legate soprattutto alla programmazione di incontri fra diverse scuole non operanti solo nel territorio di Agropoli, ha permesso la formazione di ben sette gruppi junior verticali, che hanno dimostrato quanto la musica sia importante simbolo di unione, di collaborazione, di condivisione e di grande passione. Dopo il successo dei due concerti del 12 e del 13 aprile, nel mese di maggio saranno protagonisti gli ensemble dei clarinetti, delle chitarre, degli archi e in chiusura mercoledì 11 maggio, tanti giovanissimi pianisti, già partecipanti a vari gruppi junior verticali, suoneranno da solisti, alternandosi con gli studenti del liceo musicale. Questi gli appuntamenti del mese di maggio. Martedì 3 maggio alle ore 18.30 il primo appuntamento con il concerto degli ensemble di clarinetti e di chitarre. Venerdì 6 maggio alle ore 18 il secondo concerto con gli ensemble di archi e brass. Entrambi gli eventi si terranno presso l'auditorium della sede centrale del liceo in via Fiamme Gialle di Agropoli. Mercoledì 11 maggio alle ore 17.30 il terzo concerto dedicato al pianoforte presso la biblioteca della sede di staccata di via Pio Decimo.